A San Michele del Tagliamento, una rappresentanza delle scuole calcio Milan del nord-est, ha dato vita alla prima edizione del Memorial Andrea Coradin. Si sono affrontati i pulcini del Bibione, del Trieste Calcio e dell'UFM Monfalcone e del Graticolato. Per tutti è stata una grande festa dello sport. Con Carlo Demo, responsabile del settore giovanile litoraneo, è stata l'occasione per tracciare il bilancio della nata sportiva. Sì, quest'anno devo dire che il settore giovanile ha rispettato in pieno, anzi forse anche siamo sopra la media di quello che ci eravamo prospettati e abbiamo conquistato con la categoria Juniore-Saglievi il passaggio nei campionati regionali, con i giovanissimi la semifinale del loro campionato per cui stiamo crescendo e nella scuola calcio stiamo crescendo sia come numeri che come qualità. e ci riproponiamo come base di partenza da quest'anno di continuare a crescere. Vorremmo portare tutto il settore agonistico, quindi in questo momento parlo dei nostri giovanissimi. L'anno prossimo vorrei avere una squadra di qualità per riuscire a portare anche loro nei regionali in modo da avere tutto il settore agonistico nel settore regionale. Ormai siete diventati punto di riferimento un po' per quanto riguarda il settore giovanile dell'intero territorio. Sinceramente questo non abbiamo la presunzione di dirlo, quello che noi cerchiamo è dare un buon punto di riferimento come qualità e stile di vita, educazione dove i nostri valori sono improntati. Il centro di riferimento forse sarà più avanti negli anni, ci vuole una storia, ci vogliono tante qualità e tanti sforzi. Sicuramente noi offriamo quello che proponiamo e abbiamo come nostra linea guida la coerenza. Cercare un passo alla volta di portare a essere un punto di riferimento per la bassa friulana. Questo certamente lo vorremmo fare. Partiamo da una base che non ci dimentichiamo le nostre origini e iniziamo col sociale per poi con la scuola e istruttori qualificati, ormai sono quasi tutti qualificati qua da noi, cerchiamo di portare avanti anche e sviluppare i talenti che riusciamo a vedere nei ragazzini. Per cui con un programma dedicato riusciamo anche a fare qualità. Ma non dimenticando il sociale perché ricorda a tutti che lo sport dei giovani è uno sport per divertirsi. Ormai la scuola Calcio Bibione è una delle più importanti delle nostre scuole Calcio Milan. Devo fare i complimenti veramente al presidente Walter Salvador, a Demo Carlo e a tutta la dirigenza perché state facendo dei grossi passi in avanti sia dal punto di vista tecnico delle squadre ma sia anche dal punto di vista organizzativo.